Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, è uscita una nuova opera di Hachette, questa volta da leggere e non da montare, e si chiama Planet Metal, diciamo una collana di riviste che parlano dei nostri gruppi preferiti del genere Hard Rock e Metal. In questo primo numero si parla degli ACDC, ma già sappiamo che nella prossima uscita si parlerà dei Metallica e diciamo che, come potete vedere, sono veramente tantissimi numeri e si parlerà appunto di ACDC, Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses, Led Zeppelin e molti altri. Decisamente un'opera molto interessante, appunto, primo per far conoscere magari ai più giovani queste storiche band, ma anche per noi appassionati già di una certa età, magari potrebbe essere utile per scoprire qualche dettaglio, qualche particolare che c'era sfuggito. Per cui andiamo a vedere come si compone questa opera e poi vediamo nel dettaglio questo primo numero. Allora, 60 anni di cultura Hard Rock e Metal attraverso le band cult. Sono 80 uscite questa raccolta e come potete vedere poi, mettendole diciamo tutte insieme, andiamo a comporre anche la scritta le band cult dell'hard rock e dell'heavy metal. Qui diciamo che troviamo alcuni dettagli e chiaramente vediamo che nei libri le rubriche per sapere tutto sulle band cult. La storia della band, i ritratti dei suoi membri, la discografia completa e gli album migliori, la saga metal. Qui vediamo che tra due settimane in edicola l'uscita 2 dei Metallica costerà 5,99, mentre le altre uscite costeranno 10,99. Diciamo che i fascicoli sono meritevoli perché sono veramente belli grossi e quindi sicuramente sarà un piacere sfogliarli. Adesso andiamo ad aprire questo primo fascicolo e vediamo come si compone. Allora, anche qui abbiamo i vari opuscoli come in tutte le opere di montaggio dei vari modellini. Anche qui abbiamo gli opuscoli che ci spiegano i vantaggi dell'abbonamento. Vediamo che ordinando l'abbonamento praticamente riceverai a casa con il primo invio l'uscita numero 2 Metallica e il numero 3 Iron Maiden. Con il secondo invio Guns N'Roses, Black Sabbath e Kiss, praticamente i capisaldi del genere. Vediamo che gli omaggi che riceveranno le persone che si abboneranno saranno l'esclusivo notebook, la t-shirt, il portachiavi e delle cuffie stereo fantastiche. Mentre se paghi con carta di credito o Paypal hai le spedizioni gratuite, in più c'è la tazza personalizzata. Detto ciò, questi sono i moduli per abbonarsi in metodo antico, in maniera cartacea, ma noi ci abboniamo online perché diciamo ci piace vivere nei tempi attuali. Qui potete vedere che tra i gruppi che saranno presenti in questa collezione, oltre a quelli che ho nominato prima, ci saranno i Van Allen, di Purple, Scorpions, Le Zeppelin, Motored, Aerosmith, Ramstein, Queen, Nirvana, Slayer, eccetera. Insomma, praticamente tutti i gruppi importanti. Ovviamente di 80 uscite sicuramente qualcuno minore ci sarà, ma insomma, anche non volendo prenderli tutti, l'importante è avere quelli storici. Vedendo com'è composto il fascicolo, vediamo che abbiamo il sommario, quindi abbiamo l'hard rock in alternata e continua a pagina 4, gli album migliori, i ritratti, la saga metal. Quindi qui diciamo che inizia la storia degli esivisi, che chiaramente da leggere tutto quanto senza sosta, e quindi si parte proprio dai primi anni 70, e si va avanti vedendo diciamo tutta la carriera della band. Qui c'è Bon Scott, si arriverà di certo a parlare della sua prematura scomparsa, fino ad arrivare appunto a Brian Johnson, che dall'inizio degli anni 80, dal 1980 diciamo, non è più uscito dalla band, se non per un breve periodo di recente a causa di un problema all'orecchio. E qui appunto vediamo, c'è la discografia completa dal 75 al 2020, credo che evidenziati in giallo siano gli album migliori, ma non lo so, non ho letto, quindi non lo so. Ed è sicuramente completo, cioè nel senso c'è veramente tutto quello che c'è da sapere su questa band, quindi direi che è veramente il caso di collezionare questi fascicoli per andare a conoscere diciamo tutto quello che ci interessa sulle nostre band preferite. Decisamente è un'opera molto interessante, De Agostini aveva pubblicato qualcosa di simile ma portando i vinili nelle band metal e hard rock più importanti. Invece in questo caso abbiamo da leggere e diciamo che sicuramente è molto bello poter avere, soprattutto in italiano, delle biografie di questo tipo, perché diciamo non è proprio scontato in Italia ricevere delle opere del genere, per cui probabilmente significa che c'è stato un incremento delle vendite o comunque dell'interesse verso questo genere e quindi si arriva ad avere queste opere. Io personalmente cercherò di seguirla, magari questa prendendole in edicola prenderò ovviamente solo quelli che mi interessano di più, ma lo consiglio vivamente a tutti quelli che hanno qualche anno di meno e quindi magari non conoscono bene queste band ma vogliono conoscerle. Sicuramente questo è il modo migliore per andare a scovare tutti quei dettagli extra musicali perché chiaramente non ci limitiamo solo ad ascoltare la canzoncina come chi ascolta il pop in generale. E' un utente un po' più, tra virgolette, superficiale nel senso che si limita ad ascoltare la hit del momento e finisce lì. Invece chi ascolta questo genere alla fine diventa un amante della band in maniera pesante e va a cercare tutti i dettagli, le biografie, le vite private dei vari componenti degli gruppi eccetera eccetera. Io ad esempio sono uno che va a cercare di sapere tutto sui vari personaggi, sui vari componenti dei gruppi, quindi sicuramente questa è l'opera che fa per me. Detto ciò vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto questo video e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così da non perdere nessuno dei miei prossimi video. Ora vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!